Chi oggi non ha potuto partecipare personalmente a questa iniziativa, a mio avviso ha perso qualcosa di significativo. Da un lato perché c'è un auditorio molto qualificato, partecipato e attento e dall'altro, come veniva sottolineato dal direttore, la nostra città ci ha regalato una delle sue memorabili giornate di sole che completano in qualche maniera l'accoglienza. Personalmente sono particolarmente lieto di essere qui, anche perché la mia prima uscita pubblica, diciamo così, da sottosegretario ai beni culturali nella mia città, è su un argomento, quello delle biblioteche pubbliche, che in qualche modo è inusuale trattare per così dire extramenia. Quando si pensa alle biblioteche si pensa a qualcosa che ha a che fare con altri ambienti rispetto a questo, ma questa è anche un'innovazione, cioè andare fuori dal proprio ambito a cercare di stimolare nuovi fruitori. Le difficoltà sono tante, non ultime quelle economiche, però c'è passione e qualità e io personalmente non dico assumo l'impegno perché è un argomento abusato, ma insomma vorrei essere presente e disponibile e spero anche capace di sostenere lo sforzo di una dirigenza sempre appassionata. Anche le biblioteche sono ad una svolta, devono conciliare, mettere insieme da un lato un patrimonio ricchissimo, straordinario, unico al mondo, il nostro patrimonio, quello del nostro paese e di tutte le biblioteche che sono disseminate nel nostro paese. La innovazione è un'utenza che cambia, che usa la rete, che usa l'informatica e anche quella parte che è sottratta ancora a questi usi e a queste nuove consuetudine. E quindi noi dobbiamo in qualche maniera essere capaci di conservare l'antico e di proiettare il moderno nel futuro affinché ci sia sempre innovazione, ci sia sempre qualità e ci sia sempre un'offerta più stimolante e nuova. Qui giochiamo in casa, come si dice, perché lo ricordava il direttore, il patrimonio napoletano, quello che Napoli offre a questo contesto è anch'esso un patrimonio straordinario, quello della biblioteca nazionale, dei girolamini, dell'universitario, insomma c'è un patrimonio che va sempre tenuto presente e ricordato perché, come si dice, le radici rappresentano sicuramente il futuro. E' anche un modo, questo intelligente, di riunire i direttori generali qui in questa prima conferenza perché è un modo anche intelligente di celebrare anche con questi eventi, il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, che si è anche realizzato attraverso le biblioteche e questo patrimonio anche prima del risorgimento. Quindi io ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio voi, ringrazio il direttore generale Fallascio, il suo staff, lo staff della biblioteca nazionale. Io ci tenevo particolarmente ad esserci e a non limitarmi soltanto ad un ringraziamento, devo alla sensibilità del ministro e all'impegno anche del professor De Caro, se posso anche portare un piccolo segno concreto e tangibile. Il ministro ha ieri firmato, io lo lascerò poi qui, un decreto che attribuisce alla biblioteca nazionale un contributo, una somma di 200 mila euro che in qualche maniera andrà a sostenere il completamento dei danni che impedivano la frizione di alcune sale e che così potranno essere recuperate al pubblico. Mi sembra anche... Io ritengo che quando si può andare incontro lo si debba fare, lo ritengo un dovere delle istituzioni e quindi è un applauso che facciamo a tutti noi, a noi stessi, nel senso per essere tutti quanti stimolati a fare sempre meglio. Io non lo dico ritualmente, veramente mi rammarico di poter essere qui con voi ancora un po', poi dovrò andare via, ma ci tenevo, nonostante la mia presenza fosse stata richiesta soltanto nelle ultime ore, a non mancare a questa occasione e auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie.